Valdichiana, buongiorno e benvenuti qua a Torrita di Siena alla quarta edizione del Borgo dei Libri, una manifestazione che durante gli anni è cresciuta tantissimo e che riesce a coniugare cultura ed enogastronomia, che anche l'enogastronomia è una forma di cultura per il nostro territorio. Allora, rompiamo subito il ghiaccio delle nostre dirette, noi saremo qua tutto il giorno, tutto il pomeriggio, per raccontarvi in diretta questa bella manifestazione. E sono venuti a trovarci l'assessore alla cultura del Comune di Torrita di Siena, Paolo Tiezzi, e il presidente della Proloco di Torrita, Roberto Goracci. Benvenuti e grazie per rompere il ghiaccio di questa nostra lunga diretta giornaliera. Allora Paolo, io ho detto, quarta edizione, un traguardo importante per una manifestazione giovane, che è nata un po' in punta di piedi, ma possiamo dire che si sta sviluppando come un tornado qua nella Valdichiana. Beh, ora un tornado, visto le bombe d'acqua di questa settimana, mi sembra un termine, ma per ora le cose promettono bene, quindi confidiamo di essere assistiti dal tempo fino a domani sera. Devo dire che è nata un po' per caso, concordo con le parole di Valentina, però tutti gli anni abbiamo aggiustato il tiro e soprattutto come amministrazione siamo molto contenti della gestione che noi abbiamo demandato per la parte culturale alla Fondazione Torrita Cultura, che è il nostro strumento operativo per eccellenza durante tutto l'arco dell'anno, e agli amici del Proloco di Torrita di Siena, che veramente si stanno rivelando sempre più preziosi. La nostra filosofia è proprio quella di incrementare, mantenere, sviluppare quello che abbiamo trovato, dando anche delle idee nuove, dei suggerimenti, ed avere degli interlocutori seri, affidabili, del nostro territorio che gestiscono. Non a caso abbiamo registrato come amministrazione comunale, al nome del Comune Torrita di Siena, due borghi. Il Borgo del Vinsanto, la manifestazione ormai quindicennale, che da qualche tempo è gestita interamente dalla Proloco di Montefollonico e dalle altre associazioni montanine, e il Borgo dei Libri, nel quale la gestione, come ho ricordato ora, è, penso di poter dire, paritetica tra Proloco e Fondazione Torrita Cultura. Ecco, quindi la nostra filosofia è che l'ente locale deve essere ispiratore delle iniziative, che sorregge, che dà una mano, ma poi è la forza del volontariato torritese, la creatività dei nostri torritesi e anche dei comuni con termini, di chi vuole venire, crede in queste cose e ci dà una mano. Noi siamo qui per dare due mani. Ecco, io ho detto che questa manifestazione riesce a coniugare cultura ed enogastronomia, che per il nostro territorio anche l'enogastronomia è cultura. Sicuramente, mi permetto di riallacciare a questo fermento che agita un po' tutta la Valdichiana e che è culminato con una serie di atti sottoscritti da tutti i comuni della Valdichiana, da Civitella fino a Chiusi, quello che una volta era considerato il versante aretino, quello senese. La Valdichiana sta diventando un marchio, sta diventando un nome. Mi permetterete, se io sono un po' nazionalista in termini linguistici, preferisco dire un marchio o non, piuttosto che il brand, il brand sa troppo di brandi. Poi tuteliamo la lingua italiana in qualche modo. Tutteliamo anche il dialetto chianino, perché qui in vendita c'è un banchino dove un'associazione culturale, gli amici dell'associazione culturale Ottagoni Torrita di Siena, hanno partorito la seconda edizione del dizionario di Chianino di qua a Dalfosso, che la fondazione Torrita Cultura ha edito. Ecco, mi sembra incidentalmente, così si può dire, un ulteriore buon esempio di pratica, di come si deve gestire la cultura e la vita sociale. In proposito, visto che 30 secondi è stato detto, siamo alla quarta edizione, ma le radici del Borgo dei Libri sono molto più profonde e nascono da una serie di attività, lo vorrei ricordare espressamente, quello dell'Accademia degli Oscuri, il loro premio nazionale di narrativa, che ormai è risalente di svariati anni, e che nel Borgo dei Libri si è indirizzato verso l'attività letteraria, se così si può dire, dei ragazzi delle scuole medie. Ecco, è un'idea che è nata insieme alla prima edizione del Borgo dei Libri, che fu un po' la festa del volontariato culturale, un'idea di una nostra insegnante di Torrita di Siena, Lucia della Giovan Paola, ne parlò con l'amministrazione comunale, fu subito coinvolta all'Accademia degli Oscuri, perché loro avevano il loro premio nazionale, e è una manifestazione che veramente dà un grande lustro, una grande risonanza al nome di Torrita di Siena, tant'è che avevamo programmato la premiazione nel nostro teatro comunale degli Oscuri, e invece con grande gioia andremo oggi pomeriggio tutti nel parco di Villa Rocchi, perché vengono anche da lontano, dal Piemonte, dalla Basilicata, così in tanti concorrenti, così in tante scuole, che il nostro teatro, per quanto più che presentabile, bello, storico, ma era del tutto insufficiente. E come ultimo esempio di ottima collaborazione tra le associazioni torritesi, cito che se gli amici dell'Accademia degli Oscuri, della quale anch'io faccio parte come ragguardevole torritesi, rifondatore, sono costretti a premiare nel parco di Villa Rocchi, dato l'abbondanza di partecipanti, dopo si verrà tutti insieme per il brindisi qui in piazza, e qui il grazie va fatto agli amici della Proloco, non perché il Presidente è qui, ma perché se lo meritano, e perché sono loro che organizzeranno questa merenda per i giovani letterati. Ecco, dopo andiamo sulla Proloco per capire come è coinvolta. Un'ultima domanda all'assessore, lei ha detto due cose interessanti, scuole e pubblico che arriva un po' da tutta Italia. Ecco, questa manifestazione appunto vede il coinvolgimento delle scuole locali, e poi capiremo come, e poi sta catalizzando l'attenzione non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale. Infatti il Borgo dei Libri è stato menzionato più volte nei giornali di turismo, anche a livello nazionale. Sì, cerchiamo di far sì che le persone vengano a Torrita, si interessino a Torrita, siano stimolate a conoscere Torrita. Torrita ha un patrimonio storico e culturale di primissimo livello, soffre, tra virgolette, della vicinanza di tre colossi del turismo, ma della storia dell'arte, che rispondono ai nomi di Cortona, Montepulciano e Pienza. Se noi volessimo competere, anche con una sola di queste straordinarie città d'arte, sarebbe una battaglia persa in partenza. Ma noi non crediamo nella competizione competitiva, noi crediamo nella vicinanza, nella collaborazione. E devo dire che con tutte e tre le amministrazioni di queste cittadine che ho citato, Cortona, Montepulciano e Pienza, i rapporti sono ottimi. E quindi noi abbiamo ritenuto di poter dare un contributo ad una maggiore conoscenza della nostra zona, della nostra valdicana, specializzandosi, se mi permettete il termine, proprio nel libro. Ecco, il libro come strumento di trasmissione pacifica delle idee, come strumento per l'esercizio della tolleranza, qui tutti possono venire, tutti possono vendere, nel pieno rispetto delle leggi, ovviamente, senza discriminazioni di nessun genere, come dice la nostra Costituzione. Ecco, in questo, permettetemi una citazione alta, una citazione importante, noi, grazie a Dio, siamo persone libere, in un Paese libero, abbiamo una Costituzione che ci insegna tante cose, informa la nostra condotta di tutti i giorni e, in un certo senso, essere qui, tutti insieme, con tante decine e migliaia di libri, così diversi tra loro, nel contenuto, nell'ideazione, nella stampa, nella tipografia, quello che ci sembra un esempio valido di tolleranza e di buon vivere tutti insieme. Anche noi della Val di Chiana siamo un po' all'esempio, siamo tra i libri in formato digitale, quindi possiamo dire che non manca veramente niente in questa manifestazione. Allora, Presidente, la Proloco è coinvolta a 360 gradi nella manifestazione, andiamo a capire cosa organizza e come è coinvolta. Vengo io? Intanto buongiorno a tutti. Devo dire che Paolo ha anticipato molti dei temi che stavo pensando di enunciare in questo mio breve intervento. Noi, come associazione, quando ci siamo, come consiglio, diciamo, quando ci siamo insediati, abbiamo condiviso subito la volontà di essere collaborativi con tutti per il bene del Paese. Torrita, ma anche dell'area vicinale. Proprio con questo intento ci siamo avvicinati a questa manifestazione che forse negli anni precedenti ci vedeva, non vedeva la Proloco coinvolta, ma abbiamo dato una spinta ulteriore con, secondo me, il giusto approccio. Nel senso, la fondazione, come diceva Paolo, e l'amministrazione ci mettono, tra virgolette, più i contenuti e sono, diciamo, portatori di idee. Noi siamo più, tra virgolette, sempre umilmente al servizio come un gruppo di volontari che ieri condividevo nel gruppo di WhatsApp che abbiamo con i consiglieri e gli amici della Proloco i turni da fare. Abbiamo messo insieme all'incirca 60 turni, non persone purtroppo, 60 turni. Alcuni copriranno sei turni, altri due, uno, chi può. Ma insomma, per dire, il contributo operativo c'è stato. Abbiamo messo a disposizione, diciamo, durante tutto l'anno il contributo di Vanessa che ha partecipato alle riunioni durante tutto l'anno e è stata coinvolta in tutta l'organizzazione. Per sintetizzare, insomma, poi dopo senza stare a dilungarci troppo, ci piace l'iniziativa, ci piace che sia fatta a Torrita, ci piacciono le persone e gli amici della Fondazione Torrita Cultura, troviamo grande soddisfazione nel collaborare con l'amministrazione comunale qui rappresentata da Paolo, ma insomma, citerei molto volentieri anche Sara, Michele e anche Giacomo, in un clima di serenità e le cose si fanno volentieri, per Torrita. Del resto, la Proloco ha questo come obiettivo, promuovere il territorio e il loco. Non ci limitiamo tanto per andare, anche oltre a quelli che sono i temi di Torrita, a collaborare con le associazioni torritesi. Non a caso, domani, saremo presenti con un gruppo di camminatori alla prima edizione del Grand Tour della Val di Chiana, che credo tra questa e la prima edizione ci sarà una seconda edizione che non passerà per Torrita, ma la terza edizione passerà per Torrita, gli amici della Chianina Trekking. Ci fa piacere aver contribuito anche a questa iniziativa di promozione del territorio, una promozione diversa, questa è una promozione più della cultura, del libro, io sono un amante di libri, quindi capirete che è la mia soddisfazione nel vedere il borgo pieno di tutti questi libri in diversi formati. Come dicevi giustamente tu, abbiamo in gestione, tra virgolette, lo spazio agroalimentare che si svolgerà qui nei giardini del monumento, fuori dai giardini ci sarà un'area street food dove potremo mangiare e bere prodotti del territorio, grossa soddisfazione, un grazie a Fondazione e all'amministrazione per coinvolgerci sempre in queste iniziative, secondo me, importantissime per un paese come Torrita, che come diceva Paolo, per risottolineare, non si deve mettere in competizione, io lo sostengo da tempo, con Montepulciano e Pienza, ma deve saper sfruttare l'indotto che viene proprio grazie a Montepulciano e Pienza. Noi spesso in prologo, quando facciamo il servizio volontario durante il fine settimana, incontriamo turisti che passano per Torrita, magari prima sono stato a Montepulciano, si fermano volentieri a Torrita, fanno un giro con noi per le nostre chiese, gentilmente tenute aperte dalla parrocchia, gli spieghiamo le opere d'arte importantissime che sono contenute nelle nostre chiese e rimangono tutti molto soddisfatti. Speriamo che questo passaparola funzioni. Concludo, avevo detto che ero breve, invece è stato lunghissimo. Concludo, con l'amministrazione, con la Sagra San Giuseppe, abbiamo accolto per il giorno del Palio e ieri, dei tour operator provenienti da tutto il mondo, ieri erano in particolare coreani, erano otto tour operator che sono venuti a visitare il nostro paese per capire come promuoverlo all'estero e in particolare in quel caso in Corea. Questi sono arrivati ieri e quindi sono freschi freschi, sono rimasti contentissimi, li abbiamo accolto anche con la prologo di Montefollonico che ha fatto una bella degustazione di Vinsanto, ieri mi diceva Giacomo che il Vinsanto era buono e quindi sicuramente gli abbiamo fatto provare un prodotto tipico buono, gli abbiamo dato il nostro pacchetto regale, stavo dicendo welcome bag, ma... No, no, dobbiamo regalare in Italia. Per mandare un ricordo di Torrita che se lo possono portare a casa e speriamo sia motivo di ricordo anche quando saranno a casa. Concludo veramente. La volta scorsa quando sono venuti questi tour operator abbiamo preso contatto con alcuni di loro e già i primi risultati si vedono. Già alcuni turisti americani nel caso specifico passeranno per Torrita. Ci stiamo impegnando molto perché secondo noi il borgo è meritevole assolutamente di visita. Speriamo, troviamo molta collaborazione anche nelle attività torritesi. Questo ci rende molto orgogliosi e contenti. Ecco, quindi dato ritese invece che da presidente possiamo dire che vedere il borgo vivo in questa maniera è motivo ancora più di orgoglio. Quindi mi correggo non solo dal pubblico della regione, ma anche nazionale, ma soprattutto internazionale. Allora, salutiamo l'assessore Paolo Tezzi, grazie di essere venuto qua. Poi magari nelle nostre lunghe dirette ci sta che un altro spazio riusciamo ad ottenerlo. E al presidente della Proloco, Roberto Goracci. E' venuto qua a trovarci Matteo Lupetti, fumettista doc, che lui fa parte di un progetto chiamato Gravur e che collabora anche, correggimi se è sbagliato, con l'associazione Rizes. Detto tutto perfetto? Grande! Allora Matteo, te sei il secondo anno che vieni qua a Torrita. Che cosa ti affascina di questa manifestazione e soprattutto perché hai deciso di intraprendere questa cosa di disegnare fumetti? Possiamo dire carriera da fumettista? Forse, come al solito, è esagerato a volte chiamarla carriera, come tante carriere artistiche. La scelta di Torrita è dovuta, la scelta di portare Gravur qua a Torrita, è dovuta all'interesse a provare a portare Gravur all'interno di un festival dedicato al libro, dedicato al collezionismo e alla stampa d'arte. Perché Gravur è un'opera che cerca di unire alcune forme del fumetto indipendente, underground, con altre caratteristiche che invece vengono dalla stampa d'arte. E portarlo fuori dall'ambito strettamente fumettistico ci interessava come collettivo. Abbiamo il primo volume stampato in Risograph, con una tecnica in realtà semi-artigianale. La macchina Risograph è sostanzialmente una fotocopiatrice, che però viene usata e riciclata dagli artisti, perché permette di stampare con strati successivi di inchiosti semitrasparenti l'uno sopra l'altro. E il secondo volume ha ancora stampa Risograph, però ogni storia è stata assegnata a una diversa coppia di colori, quindi un pochino più ricco rispetto alla bicromia più monotona del primo volume. E la nostra sovacoperta è realizzata con una stampa al torchio da matrice linee oleografica. Quindi abbiamo cercato di unire anche a livello di realizzazione dei coperti e sovacoperta una stampa che appunto si avvicina alla stampa d'arte, in questo caso è una stampa d'arte. Sul perché si è arrivato al fumetto, soprattutto quando è iniziato, era un modo per unire diverse discipline ed era un modo anche economico per unire diverse discipline, perché tantissimi media possono unire discipline diverse, il cinema, il videogioco, l'animazione, però si tratta sempre di media molto costosi nella realizzazione, che hanno bisogno di grandi squadre. Il fumetto dava l'occasione di fare qualcosa di più semplice, anche sfruttando materiali più poveri, era qualcosa che andava più nelle mie corde, soprattutto appunto quando è iniziato questo percorso. Ecco, c'è un personaggio a cui sei legato, un tuo personaggio a cui sei legato particolarmente? Soprattutto nel fumetto indipendente si lavora poco a personaggi, si lavora più a singole storie, quindi alla fine è difficile dire, non saprei neanche, da qui non mi ricordo neanche il nome dei personaggi, perché si lavora appunto a storie brevi o a archi molto brevi. Anni fa realizzai, iniziai a leggere un ciclo di storie che poi si interruppe abbastanza presto per internet. Quello magari è stato un ciclo, quello di Regina, magari è stato un ciclo che mi è piaciuto di più almeno iniziare per cominciare le lavorazioni successive, però appunto non sono mai stato praticamente interessato neanche alla serialità, quindi a tornare ripetutamente sugli stessi concetti, sugli stessi personaggi. Questo è un po' in generale per tutto il fumetto indipendente. Quindi a questo punto mi viene da chiederti come nascono le tue storie. E un'altra domanda ti faccio, se c'è una storia che vorresti raccontare ma che ancora non l'hai fatto? Allora, la scena delle storie è spesso esageratamente articolata, perché solitamente si parte dal mio caso, con anche questa attenzione alla stampa che noi cerchiamo di dare, c'è sempre l'idea di mettere da qualche parte. Ci sono delle storie che vorrei raccontare, però ogni volta il discorso è o questi materiali o questo tipo di stampa. Per esempio per l'anno scorso, a fine estate, ho partecipato a una residenza d'artista all'isola d'Elba e laggiù ho lavorato il ferro, perché eravamo a Rio dell'Elba, eravamo a Rio Marina e laggiù c'è stata una lunga storia mineraria, di estrazione mineraria di ferro e laggiù ho lavorato con acido nitrico il ferro grezzo per incidere così la lastra e sostanzialmente lavoravo con ruggine su ferro grezzo, questo è il risultato finale, ruggine su ferro grezzo e lì la storia nasce da dove ero, dal fatto che fosse a Rio Marina, dal fatto che ci fosse il ferro e quello che potevo raccontare o non potevo raccontare era prettamente legato al fatto che potevo solo lavorare con le linee di ruggine su ferro. La genesi di una storia dipende molto da tutti questi fattori, che poi le persone quando vedono una storia la vedono tutta insieme, quindi vedono la carta che tu stai usando, l'inchioso che tu stai usando e non amo partire dall'idea di voglio raccontare questa storia ma non mi interessa il come. Su storie che vorrei raccontare sicuramente, e ci stiamo lavorando questi ultimi anni, piacerebbe raccontare una storia partigiana, che è un argomento che mi affascina soprattutto perché è sempre stato raccontato da una parte o dall'altra o tendendo la santificazione oppure facendo rappresentazioni quasi buffonesche per televisioniste. Manca molto il lato umano perché non è mai trattato fino in fondo come un mito di fondazione, ecco, quindi come un materiale che può essere ripreso in mano da un artista e trattato come materiale artistico, come ambientazione narrativa. Invece sarebbe quello che vorrei fare ed è quello a cui sto lavorando di più negli ultimi tempi. Negli ultimi tempi comunque tu facendo parte dell'associazione Rises so che state lavorando ad un altro tipo di evento ma molto vicino al Borgo dei Libri perché lì si parlerà un po' più di fumetti ed è Cretecon. Ora, so che dovevamo svelare qualcosa di più con gli amici di Rises che li conosceremo meglio nei prossimi blocchi però qualche anticipazione ce la puoi dare anche tu, giusto? Come al solito non so cosa sono autorizzata a dire. Allora, Cretecon nasce dall'idea di riempire uno spazio che negli ultimi anni in Italia non è più molto coperto che è quello del fumetto di realtà. Il graphic journalism c'è tutto quel fumetto che per quanto naturalmente si parla ancora di come un reportage giornalistico, in realtà c'è comunque un filtro letterario perché comunque c'è un medium che racconta, però racconta la realtà. Quindi reportage disegnati, esperienze personali disegnate con forti richiami a argomenti sociali, argomenti di cronaca. Da un po' di tempo questo piccolo settore del fumetto, che in realtà è in crescita anche in Italia, con sempre più case editrici che se ne occupano, è però poco curato a livello di festival perché il più grande festival che c'era riguardo al fumetto di realtà ora si è interrotto, quindi abbiamo deciso di provare a dare una nuova casa al fumetto di realtà. Inoltre c'era anche poco spazio durante l'anno in centro Italia, da questa parte del centro Italia, soprattutto sul Tirreno, per il fumetto indipendente, quindi stiamo cercando di dare spazio sia al fumetto di realtà sia al fumetto indipendente e questo è più o meno i due pilastri su cui abbiamo cercato di costruire Cretecon, che le date si possono dire. Sarà dal 15 al 17 giugno. Il 15 si iniziano con le presentazioni, iniziamo le presentazioni, quindi sono eventi più ufficiali, con presentazioni, inaugurazioni delle mostre, perché le mostre sanno una grande parte del programma. Il 16 e il 17 giugno avremo una fiera mercato con anche gli autori indipendenti che porteranno le loro opere. Ecco, e quindi noi con la Valdichiana seguiremo anche Cretecon dal 15 al 17 giugno ad Asciano. Allora Matteo, io ti saluto e ti ringrazio di essere venuto qua nel nostro salotto Valdichiana. Tu torni al tuo stand, proprio sotto il comune ti hanno messo, all'entrata del comune, quindi non possiamo sbagliarci. Noi, amici della Valdichiana, ritorneremo tra qualche ora circa qua in diretta sulla nostra pagina Facebook. A tra poco state con noi. Ancora qua in diretta da Torrita di Siena e sono venuti qua a trovarci nel nostro salotto Valdichiana, organizzato per il Borgo dei Libri, due scrittrici che arrivano da Genova. Sono le Penne Viola e in realtà sono conosciute anche come Valentina e Irene. Irene è cresciuta tra favole e poesia, Valentina tra Stephen King e Agatha Crispy. Quindi, che cosa ci fanno insieme? Ce lo spiegheranno loro, ma prima ci devono spiegare che cosa vuol dire il nome Penne Viola. E dunque, Penne, come ti dicevo prima, perché appunto ce la tiriamo un po' a ritriti, e volevamo che ci rappresentasse femminile, ovviamente, ma il rosa ci sembrava un po' troppo naif, un po' da bambolina. Il viola ha più carattere, più intenso, ci piace. Quindi abbiamo scelto quello, come rappresentazione, diciamo, di noi stesse. Allora, loro arrivano al Borgo dei Libri di Torrit con Inchietro di Miele e Cannella. Questo libro, quest'opera, nasce un po' in maniera particolare, ovvero Tramite Fake è nato questo libro, giusto? Esatto. Irene e Valentina sostanzialmente sono due colleghe, lavorano insieme da qualche anno, ma in realtà non hanno mai avuto modo di scambiarsi grandi parole, se non la classica amicizia su Facebook. e Valentina nota nelle pagine di Irene, di Facebook, appunto, qualche poesia e decide quindi di chiederle di scrivere insieme questa cosa, al che io mi sono trovata un po' in difficoltà nel poter dire di no. E da lì è iniziato il scambio epistolare, perché Inchietro di Miele e Cannella è uno scambio di lettere tra due amiche, due amiche che si conoscono da sé e che si scambiano qualsiasi segreto e qualsiasi momento di intimità e arrivano poi a un finale assolutamente inaspettato. È un libro completamente improvvisato e, ovviamente, leggetelo. Le protagoniste di questo libro sono Nina e Caterina. Che è il carattere di queste due protagoniste? Perché sto leggendo dietro che è molto diverso tra di loro. Sì, diciamo che Nina rappresenta più il mondo di Irene e Caterina più il mio. Quindi sono due, appunto, abbiamo scelto anche nel titolo Miele e Cannella, proprio per rappresentare le due protagoniste, quindi Miele dolce, trasparente e Cannella un po' più piccante, un po' più speziata. Quindi, diciamo, la mia Caterina è una donna molto complicata, ha un passato che deve riuscire a superare, però è forte. È un personaggio che, secondo me, può far innamorare in molti. Mentre Nina? Mentre Nina è miele, è mamma. Nina è mamma, Nina è moglie, Nina è favole, poesia, tanta sensibilità e poi ogni tanto Nina è la donna che cerca di essere in qualche momento anche un po' cat, un po' di frizzantino. In realtà anche le persone più morbide lo cercano nella loro quotidianità. Anche le persone più morbide hanno un aspetto più grintoso. Ragazzi, voi è la prima volta che arrivate qua a Torrita, al Borgo dei Mili. Vi ho visto prima un po' a girarvi per questo fantastico borgo. Qual è l'aria che avete respirato appena siete arrivati? Ma innanzitutto è delizioso come borgo. Sembra veramente... dicevi che prima c'è il Borgo dei Misteri stasera. Ecco, mi fa venire proprio in mente qualcosa del genere. Noi siamo venute qua grazie a una nostra ex collega, oltretutto, la cui mamma lavora alla biblioteca, sapendo appunto del nostro libro, ci ha detto ma perché non venite? Noi abbiamo subito preso con entusiasmo la possibilità. Si respira... non lo so, forse... io respiro aria di libertà. Che insomma, dopo un inverno diciamo anche abbastanza... è bellissimo, è bellissimo. Non so se anche per Irene la stessa... Fa ridere Valentina, Stephen King e Borgo dei Misteri. Io in realtà qua ci ho visto tanta favola. Ovviamente, ovviamente, non nascondono il personaggio neanche durante l'intervista. E' carino, grazie, conosco un pochino Siena, molto poco, perché ho fatto un capodanno qualche anno fa con i bimbi. E' qualcosa di completamente diverso rispetto a tornare qua da sola con mio marito e con la mia amica Valentina. E' sono contenta, è una bellissima giornata e... c'è pieno di polle, sono super allergica, ma va benissimo così. Questo mi ha dato il là per chiedervi, visto le vostre personalità diverse, che storie ambienteresti qua a Torreta? Un piatto d'argento, un fantasma, sicuramente, un fantasma che magari, non so, riscopre l'amore? Bello! Un fantasma che riscopre l'amore, sì, mi piacerebbe da... sì, 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 potrebbe essere. Tendiamocela lì perché qui sta uscendo un progetto, ragazzi. Non lo so, una storia di bimbi, però ci dovrei pensare un attimo, qualcosa di... una storia per bambini, probabilmente. Nel prossimo anno, al Borgo dei Libri, le Penne Viola presenteranno un libro ambientato qua a Torreta. Poi, tra un fantasma e un bambino, lo scopriremo solo la prossima edizione. Potremmo essere amici, voglio dire. Amici, magari. Magari un bambino che incontra un fantasma e diventa il suo amico. Storia perfetta, abbiamo scritto il libro. Siamo a posto, siamo a posto. Ragazzi, grazie mille per essere venuti qua al nostro salotto. Rimanete con noi della Valdichiana perché tra pochissimo avremo anche altri ospiti. Ciao! Ciao! Grazie. Ancora qua da Torreta di Siena per il Borgo dei Libri. Dopo le prime interviste abbiamo già cominciato a svelare questa quarta edizione di questa manifestazione che sta veramente catalizzando l'attenzione di tutta la Valdichiana e non solo perché ci sono espositori che arrivano anche da altre parti d'Italia e come abbiamo detto con il presidente della Proloquo ci sono anche alcuni turisti che arrivano da altri continenti. Ma sono venuti a trovarci qua nel nostro salotto Valdichiana due protagonisti della manifestazione. La manifestazione è organizzata da Fondazione Torrita Cultura, dal Comune di Torrita e con la collaborazione appunto della Proloquo e dell'Associazione Rises di Asciano. Allora, ciao ragazzi, ciao Nicola, ciao Marta. Nicola, come l'Associazione Rises fa parte di questa manifestazione che in quattro anni è cresciuta tantissimo e continua a far parlare di sé? Allora, questa è diciamo la terza edizione in cui Rises è presente all'interno del Borgo dei Libri e diciamo il primo anno è stata una partecipazione un po' più blanda, più leggera, ci siamo occupati di realizzare alcuni laboratori e da lì poi è nato questo percorso che ci ha portato poi l'anno scorso ad occuparci della parte logistica e anche quest'anno appunto ci siamo, in particolare Marta ha seguito tutti gli aspetti della presenza degli espositori con il coordinamento che non è assolutamente facile, anzi insomma, vista la massa di gente che partecipa c'è veramente un grande lavoro dietro e dobbiamo davvero ringraziare Marta per tutto questo suo lavoro e poi ci occupiamo della realizzazione di laboratori per bambini che abbiamo fatto questa mattina e poi stasera ci sarà il secondo appuntamento, la seconda edizione del Borgo dei Misteri questo gioco, questo format che abbiamo creato l'anno scorso ad hoc proprio per il Borgo dei Libri è un gioco, diciamo, rivolto a un pubblico adulto, maturo quest'anno dopo l'ambientazione dell'anno scorso che era, diciamo, negli anni 40 realizzato negli anni 40, quest'anno ci siamo focalizzati sugli anni 70 quindi sarà una cosa un pochino più moderna, più movimentata e comunque speriamo assolutamente divertente siamo felici del fatto che ci sia una grande partecipazione in tutto il Borgo dei Libri prima è impartare il Borgo dei Misteri che è una cosa a cui teniamo molto e speriamo che questa collaborazione con l'amministrazione comunale di Torrita possa andare avanti per tanti anni perché per noi è veramente un'esperienza bellissima ci dà l'opportunità di conoscere tante realtà come sono appunto quella degli espositori delle associazioni locali e delle case editrici e ci dà veramente l'opportunità comunque di realizzare anche delle cose molto 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 belle e dei progetti molto interessanti quindi per RISE per tutti noi è un'occasione più unica che rara e ringrazieremo sempre l'amministrazione per darci questa opportunità Tra l'altro possiamo dire che il Borgo dei Libri, no scusa, il Borgo dei Delitti è andato sold out appena è stato presentato quindi è veramente un evento nell'evento Sì, sì, è curiosa questa cosa, diciamo che l'anno scorso l'abbiamo fatto un po' così a sorpresa eravamo un po' anche preoccupati, vedremo cosa succederà perché poi comunque questi giochi richiedono richiedono, benché siano appunto giochi, ma come tutti i giochi richiedono un discreto lavoro dietro di costruzione a partire dalle regole, a partire chiaramente dalla trama perché poi ci sono degli attori che partecipano, che interpretano questi personaggi e in una sorta di tra virgolette cluedo o cludo, come dicono quelli bravi, si raccolgono le informazioni, si raccolgono i tizi e poi si arriva a scoprire chi è l'assassino Comunque da quest'anno si chiama Borgo dei Misteri, perché abbiamo fatto anche un'edizione per bambini quest'anno ad Halloween, esatto, per ogni santi, come direbbe qualcuno e quindi da lì abbiamo deciso di ammorbidire un po' il nome dal Borgo dei Delitti a Borgo dei Misteri così abbiamo deciso di essere più friendly anche per i bambini quindi ecco, sì, abbiamo avuto una bella risposta e ci piacerebbe anche allargare il format e riuscire a ripeterlo anche in altre situazioni, questo sì quindi se volete ci siamo anche per le comunioni, le cresime, qualunque cosa e magari le location qua in Valdichiana non mancherebbero perché Borghi è veramente un territorio ricco di Borghi ricco di storie e quindi perché magari proprio ambientazioni nuove per questo gioco che devo dire, io sono contenta anche perché il cluedo è il mio gioco preferito quindi sono contenta di questo format Marta, ha detto Nicola, appuntamenti anche per i più piccoli questa mattina c'è stato un laboratorio cosa c'è in programma per loro e se ci vuoi anche raccontare un po' che cosa è avvenuto questa mattina per i più piccoli va bene allora, i bambini io devo dire ho sempre una grande attenzione per loro perché penso siano veramente una parte importantissima per la promozione di eventi di questo genere e allora noi abbiamo deciso di dedicare ai bambini dei laboratori specifici sul libro e quindi questa mattina abbiamo avuto i bambini delle scuole elementari di Torrita e abbiamo proposto un laboratorio intitolato Faccialibro riprendendo sulla falsariga di Facebook e dargli un'idea diversa di quello che è il social network più comune in questo periodo e quindi hanno creato un librino con carta ricetta e personalizzato in base ai loro interessi alle cose che a loro piacciono, a come si sentono quindi è un modo di rappresentare se stessi attraverso il libro e continueremo a proporre laboratori gratuiti per tutta la durata del Borgo dei Libri creeremo anche delle farfalline per i bambini più piccoli quindi quando vediamo che ci sono gruppi di bimbi magari dai 3 ai 5 anni che hanno bisogno di un laboratorio più semplice quindi noi ci adattiamo di proporre attività creative e manuali inerenti al libro con l'utilizzo di carta per bambini di tutte le età che possono essere anche aiutati dai genitori, dai fratelli crediamo che il contatto con il materiale grezzo, l'usare le mani, usare la fantasia sia una cosa estremamente importante che debba essere valorizzata in una fiera come questa che è ricca insomma di immaginazione quando uno vende un libro vende un'occasione e i bambini questo lo devono capire, lo devono cogliere e quindi noi siamo estremamente felici come noi poi ci sono altre associazioni che propongono laboratori accanto a noi, accanto alla piazza c'è l'associazione La Regola 42 che ha proposto dei laboratori creativi sempre sul tema libro con una rilegatura speciale c'è il signor Seccia che fa una dimostrazione sui vari tipi di rilegatura poi avremo anche con la LAV quindi le letture ad alta voce ci sarà l'associazione Donne di Carta che anche loro hanno creato questo progetto meraviglioso che si chiama Persone Libro e quindi le persone che raccontano a memoria un libro per mantenerne appunto la memoria sono tutte occasioni imperdibili per i bambini e anche per gli adulti io ringrazio Torrita di Siena, l'amministrazione, la fondazione Torrita Cultura perché ci danno l'opportunità di portare il libro a Torrita ma anche in tutta la Val di Chiana ed è un'occasione veramente speciale da non perdere ecco voi di Rises questo è un possiamo dire anche un evento che non è l'unico in questo territorio perché voi di Rises state lavorando ad un progetto bello dove ancora c'è i fumetti possiamo dire fumetti in primo piano che è Cretecon ne abbiamo già parlato nelle interviste precedenti dal 15 al 17 giugno ad Asciano si svolgerà questa bellissima manifestazione dove sono protagonisti i fumetti e dove è protagonista ancora l'immaginazione, le storie e la carta sempre Cretecon nasce da una volontà e un interesse di tutto il gruppo di Rises è una sfida una sfida che ci siamo posti e io credo che in questo periodo bisogna essere coraggiosi noi siamo quasi tutti trentenni abbiamo la necessità di manifestare in maniera positiva i nostri desideri e il nostro interesse il borgo dei libri è così anche Cretecon soprattutto Cretecon il festival che si terrà appunto ad Asciano a giugno sono per noi un banco di prova perché è inutile raccontare storie cioè bisogna avere un altissimo grado di passione un altissimo grado di interesse per creare dal nulla una cosa che possa durare nel tempo e che possa avere una risonanza non dico amplissima ma quantomeno locale bisogna fare le cose in comunione con le persone che il posto lo vivono e noi stiamo provando a fare questo ci stiamo mettendo tutte le forze tutto l'impegno possibile e speriamo che possa essere compreso questo allora grazie ragazzi io vi ringrazio anche per essere venuti nel nostro angolo intervista in questo pomeriggio ricchissimo di eventi vi ringrazio e noi vi invitiamo ovviamente a scoprire il borgo dei libri a venire qua a Torita a scoprire il borgo dei libri dopo aver visto le nostre interviste in diretta a troppo chissimo ciao Torita di Siena a borgo dei libri quarta edizione tra i vari protagonisti che sono venuti qua a trovarci nel nostro salotto Valdichiana finalmente abbiamo avuto onore di avere qui con noi il sindaco di Torita Giacomo Grazia e la presidente della fondazione Torita Simona Giovagnola grazie per esservi prestati alle nostre interviste da questa mattina che le rincorro ma non le dobbiamo dire allora sindaco una manifestazione che è cresciuta in quattro anni è veramente sta catalizzando l'attenzione della Valdichiana su Torita e non solo della Valdichiana perché abbiamo intervistato espositori che arrivano da Genova ma abbiamo avuto anche un pubblico internazionale come prima mi diceva il presidente della Proloco un fiore all'occhiello per Torita che è sempre scoperto in cultura Sì, buonasera a tutti scusate il ritardo ma stamattina eravamo impegnati dall'assessore Maccioni vice sindaco Maccioni che con l'assessore Tiersi e con la presidente Giovanni Magnola nell'apertura del secondo lotto di ragazzi poi abbiamo fatto il festival del libro e eravamo un po' impegnati poi siamo orientati in scaletta in maniera molto brillante una bella giornata il sole lo dimostra è un caldo detto un pianino che si brucia e quindi insomma siamo contenti che il tempo sia bello che ci assista e che i tanti ragazzi su cui puntiamo vengono a farci vista e già la mattina ho oltre 100 rabbambi delle scuole dell'Istituto Compensivo Ciparini da Ciannorto Visi varie iniziative fatte alla biblioteca dei ragazzi e nei laboratori egregiamente organizzate dalla nostra associazione coordinata da RISES che ha un altro lavoro poi in tanto tempo sarà il miglior e iniziamo a fare un video di estate antipata durante i congiuri anche la SEPMA avremo di molti anche 5 giorni che è un medico che sarà scritta e presiderà il concorso internazionale del libro dei ragazzi organizzato dalla nostra Accademia di Ero Scuri dove tutta la giunta sarà presente così anche come la fondazione concorso molto importante che sarà il primo dei due concorsi più importanti il secondo e domani sera il concorso Clannis che vedrà al Teatro degli Oscuri la premiazione dei testi più importanti che i nostri ragazzi bambini hanno scritto cultura a 360 gradi Simona un'edizione molto attenta ai bambini e di ampio respiro nazionale sì come sempre molto attenta ai bambini abbiamo distribuito come ogni anno i buoni da 5 euro che tanti bambini questa mattina hanno speso in libri sono stati distribuiti 5 mila buoni e ne verranno distribuiti con premi del concorso Clannis perché abbiamo visto una piccola cifra in denaro e l'altra in buoni da spendere i libri quindi penso che insieme alle altre iniziative come lo spettacolo Matilda come la presentazione del libro La Camorra spiegata ai bambini credo che l'amministrazione abbia dimostrato di essere particolarmente attenta ai ragazzi e ai bambini in generale e di questo credo che noi possiamo ne possiamo essere molto soddisfatti anche noi come fondazione che ovviamente insieme all'amministrazione partecipiamo all'organizzazione di queste iniziative Simona con te vorrei parlare di un appuntamento che ancora non è stato detto niente ma è un appuntamento molto curioso che ci sarà nel teatro dei oscuri il giallo rosa penso che tu sei la protagonista di questo appuntamento giusto? Sì la protagonista nel senso che farò la mia presenza istituzionale perché colgo qui veramente l'occasione per ringraziare Giulia Bennati dei culturativi fondamentalmente è stata l'edore e abbiamo due conosciute che sono la Belomo e la Teruzzi che tra l'altro è anche il direttore di quarto grado quindi ospiti insomma autorevoli si chiamerà il giallo e rosa e verrà aperto dall'assessore alla cultura Paolo Tiezzi perché è lui che l'anno scorso ci ha lanciato una sfida diceva vabbè vediamo il prossimo anno cosa sono in grado di fare le nostre le nostre donne quindi organizzate il giallo e rosa e noi per tutta risposta lo faremo presentare aprire il convegno verrà aperto da lui un'iniziativa secondo me importante perché spesso ci si dimentica che anche le donne scrivono gialli quindi i famosi sono i giallisti in realtà poi le gialliste italiane magari sono sempre un po' in secondo piano non parlo di Patricia Cornwell che con che scarpetta penso che ormai sia molto conosciuta da tutti però abbiamo anche delle importanti gialliste italiane a noi ci fa piacere farle conoscere grazie Simona ultima domanda al sindaco visto che ha introdotto un caldo che si brucia il comune di Torrita su un'idea di l'assessore Tiezzi quest'inverno questo mesi passati ha presentato il vocabolario Chianino che lo possiamo trovare qua in vendita al Borgo dei Libri il vocabolario Chianino che è praticamente un vocabolario a cui sono molto legato perché mi piace nel parlare nel relazionarmi con le persone usare anche termini Chianini che poi alla fine rappresentano la nostra identità torritese e di tutta la valdichiana senese da retina non a caso il premio del concorso si chiama il premio l'alò d'oro l'alò d'oro l'alò d'argento l'alò di bronzo che è stato fortemente voluto dall'amministra ma l'alò è un po' il termine che raffigura tutta la valdichiana senese da retina quindi sia il vocabolario che abbiamo presentato un mese e mezzo fa circa i primi di marzo se non erro quasi due mesi infatti è stata un'anticipazione del blog di libri che è partito un po' prima quest'anno anche se si conclude con questo fine settimana così caldo che si brucia come si diceva prima quindi il vocabolario di Chianini che è molto carino è stato ed è in vendita in tutte le librerie della zona e grazie anche a un po' di collaborazione con l'unico Centro Italia è in vendita anche in tutti i negozi della Coppa Centro Italia qui della zona e può essere un contributo anche per dare manforte all'eventuale ulteriore ristampa e all'ulteriore ampliamento che i ragazzi collaboratori dell'associazione Ottagono hanno curato e ben fatto questa edizione sono ovviamente molto contenti di far presentare questi tipi anche di testi particolari nella nostra Borgo dei Libri e niente speriamo che vedremo quelle collaborazioni che abbiamo e che continuino ad avere grazie a noi grazie alla Fondazione Torrita Cultura e grazie ripeto alle tante associazioni culturali di Torrita che devo dire stanno facendo e hanno fatto negli anni delle cose importanti col Borgo dei Libri vorremmo e abbiamo cercato di fare un contenitore dove tutti potessero esprimersi al meglio e credo che i tanti banchini qui presenti oltre 50 e le tante associazioni coinvolte che vanno dalle Proloco ovviamente che sono le due capofila alle tante associazioni culturali vi viene ripeto l'Accademia degli Oscuri come il Circolo Fra Jacopo Lampi di Torrita e le tante case editrici che si sono snocciolate qua e là per il nostro bel borgo hanno riempito questo Borgo dei Libri e devo dire che si respira veramente una bellissima energia e sinergia qua a Torrita di Siena grazie Sindaco grazie Simona appuntamento voi rimanete connessi sulla Val di Chiana e ovviamente venite a vedere il Borgo dei Libri Regola 42 venire al Borgo dei Libri di Torrita di Siena sicuramente ma la vera Regola 42 sono Edi e Leontina loro sono due componenti dell'associazione Regola 42 di Boggibonzi che sono venute qua al Borgo dei Libri di Torrita di Siena per organizzare dei laboratori per i bambini e per presentare questo libro appunto per i bambini in viaggio con L'Art e Tanacuilla Tanacuilla loro sono due bambini etruschi allora Edi raccontaci di quest'opera prima però due parole sulla Regola 42 grazie la Regola 42 è un'associazione culturale noi ci occupiamo di fare principalmente laboratori per i bambini su Poggibonzi e anche collaboriamo con le altre associazioni del territorio come per esempio Beautiful Mind abbiamo fatto anche facciamo dei progetti con loro per la creazione di una biblioteca ad alta leggibilità e tante altre cose Leontina in particolar modo si occupa di arte io mi occupo più di laboratori di lettura e di scrittura diciamo creativa tutto quanto gira intorno al libro compreso il laboratorio manuale di oggi che è un laboratorio diciamo più artistico diciamo del quale se ne occupa più lei e poi niente il libro nasce è uno dei progetti che avevamo in cantiere da molto è stato fatto da me e da Simona Montagnani è un'archeologa e noi diciamo che volevamo cercare un modo di narrare la storia ai bambini in un modo che fosse divertente e che partisse anche dagli oggetti concreti della quotidianità e quindi per far questo siamo andate in giro per i musei abbiamo visualizzato dei riperti che si potessero legare all'infanzia oggetti di uso quotidiano e con quelli abbiamo fatto una storia una storia che è stata illustrata nella quale poi diamo i riferimenti in fondo per poter visitare i musei dai quali abbiamo preso spunto per gli oggetti insomma gli oggetti si possono vedere insomma diamo una mappa in cui ci sono i nomi di tutti esatto esatto in tutti questi musei scorrendo il libro ci sono si trovano gli oggetti racchiusi all'interno della storia e poi in ognuno di loro c'è qualcosa che va ricercato quindi possiamo dire un'opera per bambini ma che promuove anche il territorio promuove il territorio promuove il territorio promuove una visita un po' più consapevole dei musei si può utilizzare per fare dei laboratori è fruibile in molti modi sia con la lettura con i genitori che in modo autonomo e poi ci sono anche altri approfondimenti in fondo per chi ha voglia di scoprire insomma qualcosa di più e di approfondire Leontina mi dicevi che questa mattina si è svolto un laboratorio di rilegatoria giapponese che cosa vuol dire? Sì noi stamattina abbiamo portato qui all'interno un'attività prevalentemente manuale perché ce n'è bisogno perché è divertente perché è utile per imparare anche tante cose e lavorare anche con la mente ovviamente noi cerchiamo di proporre ai bambini esatto questo è il mio prototipo sì con questa è la rilegatura giapponese è un modo di rilegare che ha una sequenza una sequenza ordinata e la particolarità è che l'ago che cuce non passa mai nello stesso dallo stesso foro due volte ed è molto interessante i bambini sono molto incuriositi da questo è un po' complessa ma non è difficile come usiamo dire noi è complessa perché vogliamo proporre loro anche delle attività di una certa importanza che però mettendosi lì piano piano riescono a fare da soli in maniera autonoma ovviamente ci sono poi li decliniamo anche per età quindi questo ovviamente lo facciamo con dei bambini che sono anche nel secondo ciclo dell'elementario o anche più grandi con quelli più piccoli un pochettino si semplifica esatto un pochettino si semplifica cambiando ovviamente mutando la differenza da cui far passare il filo ma l'atto del cucire la sequenza la scelta anche estetica di abbinare il mio nastro con le copertine che realizzano completamente i ragazzi e le trovi dietro sono queste perché questi sono i nostri esempi e i bambini con noi hanno lavorato con attività di acquerello e anche con il frottage che si vede bene con questo hanno un gusto estetico i bambini davvero da cui dobbiamo imparare e con questo riescono a fare un oggetto che poi rimanda anche al dopo infatti tanti bambini ci hanno lasciato noi chiediamo anche che ci vengano lasciati dei commenti e tanti bambini colgono questo nostro aspetto e ci fa piacere perché il laboratorio non si conclude in quell'istante ma è soltanto l'inizio di un'esplorazione e di una sperimentazione personale che arriva fino a casa e che procede leggiamo qualcosa che hanno scritto i bambini abbiamo selezionato tre commenti questo molto lungo di Gaspare che dice avete avuto una buona idea con questo laboratorio quindi noi siamo state gratificate dalla sua io a casa spesso scrivo dei mini libri ma la rilegatura viene sempre male ho scoperto nuove tecniche e nuovi modi di disegnare userò questo libro per farci dentro altri disegni astratti Gaspare grazie Gaspare devo dire che quando si riceve questo tipo di commenti è una cosa gratificante e una cosa che sprona sempre di più a sempre fare meglio e a proporre anche magari nuovi progetti invece qua che cosa abbiamo? qui abbiamo Maddi e Alessandra e Francesca e Maddi in particolare mi ha colpito perché lei dice che è stato un bellissimo corso con tre punti esclamativi e non lo dimenticherò mai io vorrei fare la stilista e voi mi avete aiutato molto e poi scrivere il futuro di una bambina è tante cose era una cosa insomma impegnativa e poi conclude con è stato Gozi ora noi siamo un po' datate non abbiamo capito magari andiamo a cercare cosa vuol dire Gozi leggiamo e poi è stato bellissimo imparare a fare libri e speriamo di aver capito questo sicuramente avranno capito allora ragazzi Eddie e Leontina di Regola 42 grazie di essere venuti qua nel nostro salotto voi rimanete con noi e venite ovviamente al Borgo dei Libri anche per conoscere e vedere questi bellissimi libri e le rilegature giapponesi a tra poco allora Val di Chiana grazie di essere stati con noi in quest'oggi qua al Borgo dei Libri di Torrita di Siena vi abbiamo cercato di raccontare quello che succede oggi 12 maggio e domani 13 maggio qua a Torrita voi continuate a rimanere connessi alla Val di Chiana per scoprire tutti gli aggiornamenti del territorio e non solo e ovviamente venite al Borgo dei Libri di Torrita di Siena per scoprire tante letture interessanti e viaggiare con la mente grazie di essere stati con noi a prestissimo